sotto sopra il camaleonte di casa sotto il colore sopra la resina colore per interni ha un'adesione eccezionale anche sulla ceramica le vostre piastrelle non vi piacciono più evitate lavori che non finiscono mai cambiate stile e colore la resina di finitura renderà il vostro muro idro repellente il lavandino cambia lucca tutto è possibile sotto il colore sopra la resina rinnovare un pavimento è facile sotto colore per interni sopra pavimenti alto spessore con rullo calibratore cambiare senza rompere e realizzate un ambiente chic parquet o cemento a vista sotto colore per interni sopra pavimenti alto spessore con sottosopra tutto diventa facile e veloce cemento a vista sotto colore per interni trasparente sopra pavimenti alto spessore una volta asciutto diventa resistente e trasparente come il vetro uniformate il vostro pavimento nel colore per interni che preferite e resinate con sottosopra pavimenti alto spessore con sottosopra si ottengono risultati eccezionali se volete un pavimento tradizionale nessun problema applicare con un rullo per parquet la resina sotto sopra pavimenti interni opaca lucida o satinata efficace ed economico vecchi elettrodomestici ricicliamoli con gusto sotto il colore per interni sopra i vetrificati create un nuovo look sotto colore per interni sopra finitura pareti e mobili colore per interni può essere applicato anche a spruzzo effetto satinato vetrificato lucido opaco abbinate un rullo calibratore e un rullo di spugna per evitare colature una finitura laccata ineguagliabile rinnovate i vostri pensili e le vostre piastrelle i vostri pensili avranno un effetto laccato come anche il piano di lavoro sotto sopra un bel risparmio rinnovate ridate un nuovo look con colore per interni e le finiture della gamma sotto sopra tutto è possibile rinnovate i vostri ambienti senza rompere nulla ricordatevi sotto il colore sopra la resina